Possiamo fargli vedere il funzionamento delle... Allora questo, sì, noi abbiamo già ricevuto dal casino un televisore che è dall'altra parte. È un computer portatile che metteremo a disposizione dei pazienti qui, perché in questa stanza si fa dell'osservazione post infusione o post farmaco. Queste poltrone sono poltrone elettriche rispetto alle quali appunto, essendo già il vostro intervento in corso, abbiamo avuto la possibilità di avere in dono dallo zonta e quindi siamo molto contenti anche di questo e questo serve perché molti dei pazienti non sono in grado di muoversi, quindi abbiamo già questa stanza sta diventando piano piano diciamo il salotto in virgolette buono, se così, o comunque insomma quello che cerca di dare un ambiente confrotevole.